Andiamolo Ragazzi, oggi siamo qui in un video speciale Voglio che questo video raggiunga 30.000 like Scrivete qui sotto in un commento il voto che secondo voi merita JJ in questo video Ragazzi, mi raccomando, siate bravi nel valutare perché è davvero fortissimo Ciao ragazzi, ben tornati in questo nuovo video Io sono Talox e oggi ci troviamo a Londra ragazzi Perché siamo qui per registrare un video delle challenge di calcio davvero davvero particolari Oggi, oggi siamo con un ospite speciale che è JJ Come here JJ Ciao Come are you? Good Allora ragazzi, oggi siamo qui con un talento puro ragazzi Questo giocatore è veramente fortissimo Ci andremo a sfidare in varie challenge che saranno crossbar challenge, accuracy challenge Ci avremo davvero davvero di tutto Cercherò di parlare in inglese con JJ Are you ready? For the first challenge is crossbar challenge All good Quindi ragazzi, io ho detto, vabbè, che in Italia sono uno dei più bravi a prendere le crossbar, a prendere le traverse Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con la prima sfida Ok ragazzi, adesso JJ ci mostrerà some skills, alcune delle sue skill Andiamolo Ragazzi, è incredibile, vi giuro Ragazzi, è fortissimo Ok, va bene We are ready for the crossbar challenge Five shoot, five shoot Me and five shoot you Cinque tiri a testa When you want you can start It's a long distance Attenzione, lo parte Uh Per poco, per poco Second shoot for JJ Attenzione Uh, per pochissimo Attenzione, il nostro JJ ragazzi si fa valere Ragazzi, vi ricordo che ha nove anni il nostro JJ Terzo tiro Uh, per pochissimo ancora, eh Attenzione, parte ancora Oh, bar Con la bar forse l'ho presa, raga Ma ci è andato vicinissimo Ultimo tiro per il nostro JJ Prova Uh, vabbè raga Zero Su cinque Zero su cinque per il nostro JJ Ma devo dire Che c'è un tiro regata un po' Che è più forte del mio Ma adesso Ci faremo rispettare Mostreremo Chi è il king delle traverse italiane Anche a Londra Ok ragazzi È il mio turno Spero che l'audio si senta bene C'è un vento Wind Mostruoso Quindi Cinque diri anche per me Andiamo con il primo Secondo del primo Ragazzi ci sono andato così per tutti e cinque i tiri Non ci credo Altri due tiri To shoot for everyone Secondo tiro per il nostro JJ Let's go JJ Oh no Let's go JJ Adesso è il mio turno Spero di vincere a oltranza Vai Raga ma siamo veramente lontani dalla porta Quindi lui è piccolo comunque sia Quindi la forza è anche È logico che la mia È molto più forte della sua Ok JJ Second challenge Faremo un po' di tiri One touch And shoot Shoot at the first Rimbalzo Raga non lo so come si dice Eccolo Eccolo Ok Faccio il nostro JJ Ragazzi facciamo le skill Mi sono andato a visare Le facevo Oh Le skill Ragazzi Le skill Tu le vedi E che gli faccio Raga Le skill Le skill Le vedi Yes Ok Ok ragazzi Adesso dopo aver fatto Un po' di riscaldamento Con tiri e altro Adesso sfiderò Io Versus JJ In una sfida Di dribbling Go È passato con una facilità incredibile Ma adesso mi impegno di più Vai Ragazzi Ragazzi ma cosa devo fare io Cioè vedete che skill che mi fa Va bene che non sto giocando al 100% Però Amazing Let's go Let's go Let's go Let's go Ragazzi è troppo veloce È rapidissimo Non riesco a prenderlo 5 a 0 Ok è partito Mamma mia Ragazzi It's amazing È incredibile ragazzi La velocità di gambe Con cui riesce a fare queste cose È mostruosa Ve lo giuro È mostruosa È partito ancora Secondo tiro che proverà Skill Lo prova Ok Mamma mia Regà Col terreno bagnato Col terreno bagnato Ragà Be quiet No problem Mamma mia Regà Col terreno bagnato Madonna Buona salta Lo prova Oh It's goal Mamma mia Ragazzi Ogni secondo che passa Ve lo giuro Regà Rimango sorpreso Cioè io a 9 anni Giocavo con le figurine Di Yu-Gi-Oh Al massimo Giocavo al campetto Con i miei amici With my friends But this guy This kid Is amazing Scusate il mio inglese Ma regà Questo è quello che caccia a casa Purtroppo Ok Andiamo con gli ultimi due tiri E poi passiamo Ai saluti Finali Mamma mia Regà Lo prova It's a goal It's a goal Madonna Raga Madonnina Santissima Give me five One more Ok Vuole continuare Raga Ormai ha preso la sfida Ha preso la sfida Sul serio Ragazzo Ok Let's go JJ Madonnina Santa Raga Nove anni Mamma mia What a goal What a goal For JJ L'ultimo tiro Per il nostro JJ Poi passiamo ai saluti Se la sposta Bang Dentro raga Saranno 20 metri Io lo giuro Cioè guardate quanto è fino Tra parentesi Avete capito che bombe Che tira Ah ok 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 raga Ci farà un po' di skill Un po' di orologio E poi tira Uno One Two Madonna raga Three Attenzione Attenzione Four Mamma mia Raga Siamo a quattro Five Mamma mia Raga Vi giuro i brividi Six Sei Siamo a sei Siamo a sei Seven Eight Siamo a otto Che incredibile Nine Oh mio dio Ten Siamo a dieci Eleven Attenzione Raga Non sto a contare Più del dodici Twelve Thirteen Ok Ok It's amazing Mamma mia Mamma mia Ragazzi Ragazzi Vuole mostrare Un altro Un'altra Skill Intanto ho conosciuto Lì giù pure Tipo un allenatore Del Tottenham Ho conosciuto Davvero simpatico Che allenava Il nostro JJ Ok Are you ready? Yes Oh yes Let's go JJ Give me five Oh yes Ragazzi Questo video Può terminare qui Oggi ci siamo davvero Spassati con il nostro JJ Vi lascio il link Del suo canale Qui sotto Nella descrizione Poi ve lo farò vedere Anche a inizio video I nostri Instagram Chiocciola Instatalogs And your Instagram The name Tell Your name Alla mia Ok Non ha capito niente Regali Quello che ho detto Instagram of JJ Is in the description Like the channel Quindi insieme al canale Andatelo a seguire tutti Everyone Follow his channel And his Instagram Ok Come Neymar Mbappé Si ragazzi È davvero Una promessa Del calcio Una star Is a soccer star Quindi questo Vi devo terminare qui Io spero vi sia piaciuto Lasciate dissimilare Un commento Iscrivetevi al canale Ancora non l'avete fatto Come sempre Qui da Buon talogs è tutto Think talogs Think different Beh ragazzi Ok vuole fare un'altra skill Ok ok The round the world Il giro del mondo Eccolo È partito Ancora lui Attenzione Ancora Another one And shoot Ok Bang L'ha messa lì Raga L'ha messa lì L'ha messa lì